carissimi pace buona giornata dio vi benedica oggi 4 marzo leggiamo insieme il vangelo di luca capitolo 9 cominciamo la lettura dal verso 57 mentre camminava per la via è scritto che qualcuno disse gesù io ti seguirò dovunque andrai ma gesù gli rispose le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo hanno dei nidi ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo a un altro fu gesù a dire seguimi ed egli rispose permettimi di andare prima a seppellire mio padre ma gesù gli disse lascia che i morti seppelliscano i loro morti ma tu va ad annunziare il regno di dio un altro ancora gli disse ti seguirò signore ma lasciami prima salutare quelli di casa mia ma gesù disse nessuno che abbia messo le mani all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di dio non voglio soffermarmi sui singoli episodi ma sulle opportunità che si presentano nella nostra vita avete visto insieme a me tramite la lettura che ci sono tre persone due manifestano il desiderio di seguire il signore un altro invece viene invitato dal signore a seguirlo mi sembra ricapire che però nessuno dei tre seguirono il signore e questo perché ebbero dei motivi diversi probabilmente qualcuno di noi li potrà considerare anche legittimi ma che non permisero a queste persone di poter vivere un'esperienza irripetibile cioè essere a fianco del figlio di dio insieme agli altri discepoli in quei giorni straordinari che lo videro sulla faccia di questa terra in carne ed ossa ora per noi non si presenterà mai l'occasione di ripetere gesù in carne ed ossa lo vedremo un giorno con il corpo glorificato quando egli tornerà per rapire la sua chiesa se saremo parte della chiesa e se quindi avremo confessato i nostri peccati e chiesto perdono per essi e se ci saremo ravveduti dalle nostre malefatte ma tranne quel giorno che sarà poi un giorno particolare perché poi entreremo nella gloria eterna tranne quel giorno dicevo sulla faccia di questa terra mai più ci sarà l'occasione di seguire il signore in carne ed ossa ma lo possiamo seguire attraverso la sua parola attraverso la guida dello spirito santo attraverso i tanti uomini e donne di dio che ci inviteranno magari a essere collaboratori per il regno di dio prestando il nostro servizio a favore della dell'annuncio dell'evangelo e anche qui naturalmente ci potranno essere delle situazioni nelle quali ci troveremo a rinunciare a fare questo ripeto magari per motivi legittimi sicuramente ma quale privilegio ci perderemo e quale occasione unica e ripetibile ci potrebbe sfuggire di mano perché perché ci saranno altre cose che verranno prima del signore ora ci dovremmo ricordare che la vita cristiana è una vita che deve essere vissuta certo nell'adempimento dei propri doveri di natura familiare sociale eccetera ma non credo che il signore ci voglia impedire questo credo che però oggi viviamo in un tempo in cui molto della delle ore che abbiamo a disposizione le sprechiamo in cose inutili lecite sia chiaro ma inutili che non edificano che non servono a nulla e dovremmo sicuramente provare un attimino a riguardare al modo con cui spendiamo il tempo che abbiamo a disposizione per capire se forse nella nostra vita non ci stiamo perdendo la possibilità di poter essere tra virgolette protagonisti dell'opera del signore credo che per tanti che mi state ascoltando ci siano state e ci sono delle occasioni di poter essere utili a dio semplicemente mettendo all'opera i talenti che il signore vi ha dato eppure in più di un'occasione siate sinceri avete trovato delle scuse dei motivi per non essere lì in prima linea a collaborare con la chiesa nelle evangelizzazioni o nelle altre attività di tipo spirituale che si svolgono sappiate che avete fatto un errore un errore anche grossolano del quale spero vi siate pentiti e dal quale spero vi siate anche ravveduti nel senso che non siate più caduti in quell'errore o perlomeno spero non cadiate più in questo errore ma possiate invece con un cuore zelante offrire la vostra vita per servire ad onorare il signore ricordandovi che il servizio che dio chiede ad ogni uomo non è quello che si potrebbe fare nella giungla nell'africa desertica o in zone ai confini del mondo ma semplicemente nella propria comunità locale nel paese dove si vive magari distribuendo opuscoli magari distribuendo letteratura cristiana bibbie magari testimoniando di gesù magari collaborando con le attività evangelistiche magari essendo collaboratori nell'attività della scuola domenicale secondo le indicazioni che il pastore magari vi suggerirà perciò fratelli e sorelle cerchiamo di essere più impegnati nell'opera di dio tutti quanti insieme per poter fare meglio la volontà del signore per poter vedere di operare in noi attraverso di noi e nelle persone che sono intorno a noi quale benedizione quale benedizione ne riceveremo e quale benedizione ne riceveranno quanti godranno del nostro servizio coraggio fratelli e sorelle il compito a cui siamo stati chiamati è un compito meraviglioso non dimentichiamoci mai che l'opera nostra è per il re il re del re il signore dei signori vale a dire gesù cristo e che di tutto quello che avremo fatto per la sua gloria non ce ne pentiremo mai ma anzi nell'eternità vedremo anche i frutti anime magari che sono state salvate o incoraggiate attraverso il nostro semplice umile ma prezioso lavoro che dio ci aiuti a riflettere su quanto abbiamo detto questa mattina e ad essere disponibili per l'opera del signore affinché dio possa contare anche sul nostro servizio la pace e la grazia l'amore e la presenza di dio sia con tutti quanti noi dio ci benedica insieme grazie a tutti grazie a tutti